Bella, cattivante e custode della storia. È questo l'obiettivo principale dell'amministrazione comunale, riportare il luogo simbolo della città di Fano, ossia la Fontana della Fortuna, ad uno splendore unico, agli occhi dei fanesi e dei turisti, attraverso l'avvio di un progetto di riqualificazione. La sua presentazione è avvenuta mercoledì sera alla Corte Malatestiana, alla presenza del sindaco Seri, dell'assessore ai lavori pubblici Brunori, dell'assessore alla cultura Cora Fattori, oltre all'architetto Martufi e al tecnico Orsini, entrambi coinvolti nei lavori. Un intervento ambizioso e complesso per far riaffiorare l'identità e le radici della città, suddiviso in tre livelli, tra quello scultoreo, impiantistico e uno che riguarda la sezione limitrofa alla piazza, a cui l'amministrazione comunale sta lavorando da tempo, grazie ad un ottimo lavoro di squadra. Ci sono altri progetti a cui state lavorando? Un altro progetto molto atteso su cui stiamo lavorando da circa un anno è proprio nella sostituzione di quello che è il casottino all'ingresso del pincio, proprio perché andiamo già a lavorare su un progetto che prevede una struttura a vista, quindi con del vetro e con del corten che poi manterrà delle caratteristiche, grazie alla quale potremo scendere nei ritrovamenti, ma che si potrà anche vedere dall'esterno quello che appunto è stato scavato, proprio perché tutto quello che all'interno della nostra città viene ritrovato deve riemergere. Tanti sono stati gli interventi fatti sulla struttura ottagonale originaria dal 1500 ad oggi, l'ultimo risalente al 2003 da parte del Lions Club. Un lavoro non solo di recupero e riqualificazione, ma anche di ricerca storica che ha portato a scoprire l'evoluzione della fontana nel tempo. È uno dei punti focali e più rappresentativi di Piazza 20 Settembre e quindi abbiamo raccontato una piazza sottosopra, quindi i misteri della piazza sotto, della piazza sopra, la sua storia e che caratteristiche ha, perché si chiama Piazza 20 Settembre. Un raccolto molto affascinante, oltretutto fatto da Marco Orsini, che è un tecnico del SICCHI, il nostro sistema informatico comunale, che sta facendo un lavoro molto grande fin dal 2006, aumentato nel 2015 nel reperimento di tutti i dati, nella digitalizzazione di tutti i dati relativi agli immobili e alle piazze pubbliche, cosa utilissima per poter gestire al meglio il patrimonio pubblico e privato e poter tutelare i cittadini. Ci sono serviti questa sera per raccontare la storia della piazza e potremo raccontare in futuro anche la storia di tutti i quartieri. Quindi state attenti perché fra poco partiremo anche con un progetto di questo tipo.